Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel quarto episodio di Harry Potter e l'Ordine della Fenice per Playstation 2 E' da tanto tempo che non lo registro, lo so che state vedendo questo episodio il giorno dopo del precedente Ma in realtà sono passati ben ben settimane da quando ho registrato l'ultimo episodio Infatti non mi ricordo cosa dobbiamo fare Però, adesso parliamo con Hermione Azza Anzi, aspetta, forse me lo ricordo Anzi, per fare una cosa più sbrigativa Seguiamo la mappa del malandrino che ci porterà direttamente da Neville Scusate ragazzi, sono un po' raffreddatuccio però No, dai che palle Non la voglio sentire a quella che rompe le... No, no, proseguiamo di qua tanto Dai su Oh, abbiamo cambiato strada, meno male Tanto ragazzi alla fine nella sala dei trofei lì dove vedremo le cose sbloccate man mano che completiamo le cose Lo facciamo verso la fine perché adesso andarli ogni volta a sentire un dialogo Ci scartavetra un po' gli zebedei Quindi lo facciamo alla fine quando abbiamo fatto tutto E alla fine appunto sentiamo quello che c'hanno da dire i personaggi Un giorno Successo nello studio Successo nel cesso Una mente sana è una mente curiosa Comunque qua la vastità dei dialoghi non è che sia tanto estesa Ehi, 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 Ehi Otter fa schifo Ciao Oddio, oddio Mamma mia Otter fa schifo al cazzo, alla mamma zoccola Ehi, come stai? Ragazzi ma qualcuno mi spiega nei commenti a cosa servono queste cose? Bello è il quadro con l'occhio che si muove Cos'è? Cosa c'ha la stessa voce di Ron nel terzo capitolo? Para orecchie infuocate? Comunque noi non dobbiamo andare Lì c'è Neville a posto L'hanno già trovato Neville Bella Che pozione di merda però Eh immagino Che credito Ok, allora come si fa per usare incendio? Ok, incendiamo tutto qua Ma tutto sto schifo Neville Come me lo spieghi? Mamma mia Però anche la serra è fatta molto meglio Soprattutto rispetto al quarto capitolo Lì veramente non è una serra Quella è una palude con quattro sbarre Con quattro pareti E si chiama serra Prego prego Eh manco io Prego Certo Che poi ragazzi Per quelli che manco hanno letto il libro Non sapranno mai Che questa cosa in realtà è falsa Non è Neville a scoprire la stanza delle necessità Ma è, pensate un po', è Dobby È Dobby, l'elfo domestico Che suggerisce a Harry Che esiste una stanza delle necessità In grado di trasformarsi Nei bisogni delle persone Comunque ragazzi Dal quarto capitolo in poi Sono veramente tante le cose Che sono state trascurate Nella versione cinematografica Ma non ne avete idea Io quando ho letto i libri Leggete i libri Se vi piace Harry Potter Ragazzi leggete i libri Perché veramente Vi apre la mente Vi apre la mente Devi averne davvero bisogno Pensate a quanto ci servirebbe Una stanza per allenarci Così gliela faremo vedere A quel rospo della Humbridge Voglio mostrare alla gente Come affrontare Voldemort Visto? Ve l'avevo detto Però una cosa che mi piace Dei videogiochi Che ogni tanto Ripercorrono Delle cose Dei libri Ed è una cosa Veramente bella Tipo all'inizio Dice Una tizia dice Weasley il nostro re Ogni due ne manca tre Che nel film non viene citata Ma sul libro si Che è il coro Che fanno a Weasley Arrono mentre gioca a Quidditch Ed è una cosa Veramente Bella da sentire In un videogioco Di Harry Potter È come se Hogwarts Volesse spingerci ad agire Ora non dobbiamo fare altro Che trovare gli altri E dirgli dov'è la stanza E poi potremmo cominciare Brava E ora ci Comincerà una cosa Assurda Tipo dobbiamo andare a chiamare Tipo 30 studenti E che palle però E che palle E che palle vero Ok Cosa dove fa Facciamo un po' di pratica adesso Facciamo pratica Ma tu sei proprio brava Hermione Mamma mia Allora adesso andiamo a vedere Un po' quanta gentaglia Dobbiamo Non riesco a farcela Ce lo potresti insegnare Ma sì Certo che lo farò Neville Hermione Ha il libro di incantesimi Adesso gli dobbiamo insegnare Come Vediamo se il libro Ci dà qualche consiglio Bene Bisogna puntare la bacchetta Poi muoverla In questo modo Due in alto Ah a posto Non è difficile Ah l'ha già fatto vedere Hermione Ah dura un pochino Lo scudo Il sortileggio scudo Cioè Neville Devi tirare la bacchetta In alto due volte Non è che devi fare Una cosa strana Che te la devi infilare Chissà dove Per farcela Bravo Ce l'hai fatta Bravo Oh 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 Fumo proprio feco Ci sono 4 membri Di 28 Quindi ne mancano ancora Tipo 26 No Ma tu stai scherzattando 24 ne mancano Ah ma non si può vedere La lista di qual è la pesa Ma in realtà Per vederla Dobbiamo aprire la mappa Del malandino E dimmelo Allora Qua dobbiamo chiamare Angelina Johnson Anthony di Francesco Ah no Anthony Goldstein Calipatil Cho Chen Colin Cannon Colin Cannon Scusate Dean Thomas Dolores Umbridge Dobbiamo chiamare pure lei Cioè stiamo combattendo Dolores Però la invitiamo allo stesso Mamma mia che schifo Ernie McMillard Che stronzo questo Se leggete il libro E' un grande stronzo questo Filius Vizius No vabbè questo è il prof Fred Weasley Ginny Weasley Hannah Montana Hannah Abbott Lee Jordan Luna Lovegood Oh Luna Io ancora nella versione PS2 Non l'ho ancora vista Luna Ve lo dico Michelle Michael Jack No Michelle Corner Ah che è il tizio Con cui si fidanza Ginny Tipo questo Nel sesto Cenere Correggimi se sbaglio Perché tu sei quello che dice Cioè Marina è sbagliato Questa non si dice Ma ammazzati Minerva McGonagall Padma Patil Pomona Sprite Che cazzo di nome è Pomona Mi sono fatto mal al Pomona ieri mamma mia Severus Pitons Susan Bones Terry Strash Strash Zachary Smith Che bello stronzo questo Angelina Johnson Anthony Gostan E va E poi ricominciano Opposto Ragazzi Spero che questa quarta puntata Del gameplay di Harry Potter E l'Ordine della Fenice Qui sul canale di Marino de Bestone Vi sia piaciuta Se si lasciate un bel mi piace Per supportarmi E non venirmi Togliermi la voglia Di continuare a fare video E lasciate sempre mi piace Anche se il video vi fa cagare Che a me Mi fa davvero tanto piacere Alla prossima Ciao Ciao